Ciao a tutti! Conviene passare da una Fujifilm X-T3, X-H1, modelli precedenti, alla nuova X-T4? Prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella. Dare un'occhiata al mio canale Telegram di offerte fotografiche, trovate tutto in descrizione. Iscrivetevi, non avete Telegram? Scaricate Telegram e iscrivetevi. E parlando di Instagram, date un'occhiata anche al mio canale Instagram, trovate tutto qua sotto. Un'altra cosa, prima di considerare un eventuale acquisto di una X-T4. Sto ricevendo veramente tantissimi commenti, il canale sta crescendo e sono molto 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 contento. Un saluto a chi si è appena iscritto e ha visto da poco i miei video, invece un saluto a chi mi segue già da tempo. Sono veramente molto molto contento. Io leggo tutti i commenti. A volte non è necessario magari una risposta, quindi basta soltanto un like. A volte qualche commento me lo perdo. Diciamo che YouTube, la gestione dei canali di YouTube, non è proprio una cosa semplicissima. YouTube non la facilita. Tento di rispondere a tutti, tento di rispondere in maniera esauriente. Scusatemi se a volte sono un pochino troppo stringato. Vorrei veramente scrivere, parlare, rispondere singolarmente in maniera esauriente a tutti, ma sta cominciando a essere veramente difficile. Il primo, quando c'erano pochi iscritti, era più semplice. Adesso comincia già a essere un po' più complicato. E' sempre parlando di commenti, di tutti i commenti che arrivano sotto ai video, soprattutto in questo periodo di novità di casa Fujifilm. E io sottolineo sempre una cosa, questo non è un canale dedicato a Fujifilm. Dipende poi da periodo, ci sono un sacco di novità, bene, ma comunque un canale che parla di fotografia. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente si tende a spaziare anche in altri ambiti, non necessariamente solo quello Fujifilm. Però il periodo è quello, quindi parliamo molto di Fujifilm. Una delle domande, questioni, considerazioni che si sono trovate sotto i miei video più frequenti sono quelle relative appunto al cambio, all'upgrade o al mantenimento di una fotocamera esistente. Ho una fotocamera, una Fujifilm X-T3, ecco il cavolo che passo l'XT4. Wow, l'XT4, fantastica, probabilmente l'acquisterò. Mi tengo la mia X-H1, uno mi hanno convinto, perché devo fare l'upgrade e non posso tenermi la mia? Ci sono alcune considerazioni effettivamente da fare. Allora, perché uno si dovrebbe tenere per esempio un X-T3, un X-T2 e non passare un X-T4 o viceversa? Vendere tutto e passare l'XT4? Ci sono diversi motivi. Dunque, l'XT4 abbiamo visto che da un punto di vista di immagine, qualitativamente, non ha fatto passi avanti. Cosa vuol dire? Che se noi prendiamo una X-T4, una X-T3 e anche una X-T2, le mettiamo tutte su un cavalletto e ci facciamo una foto panoramica al tramonto e chiudiamo a f8, insomma le solite cose che facciamo per una foto panoramica, vedremo che il risultato, il RAW che ne deriverà fuori, non sarà molto differente, e anzi, probabilmente sarà anche difficile capire a quale fotocamera corrisponde una determinata foto. Perché in termini qualitativi di immagine non ci sono questi grossi cambiamenti. I grossi cambiamenti arrivano nell'operatività della fotocamera. Cosa significa? Che A, la sezione video è stata implementata. Quindi, questa parte, cioè la parte video, è in continua evoluzione. Sta continuamente migliorandosi e aggiungendo caratteristiche che sicuramente fanno piacere ai videomaker. Quindi, anche lì, l'upgrade rispetto per esempio a un X-T3, che comunque ha avuto una grossa botta di funzioni in più video rispetto a un X-T2, con un X-T4 sicuramente ha dei miglioramenti. Qualitativamente, in immagini, se prendiamo il filtro bleach bypass o altre cose di questo tipo, non abbiamo questi grossi miglioramenti. Però, come dicevo, nel momento in cui le utilizziamo, non per effettuare delle foto statiche, tranquille, diciamo, dove non c'è un particolare movimento, ecco che non abbiamo necessità di utilizzare un autofocus, non abbiamo bisogno di avere l'autofocus che sia un cecchino, che non sbagli il rilevamento facciale, il rilevamento dell'occhio. Quindi, un passaggio da un X-T3 a un X-T4 probabilmente non avrebbe particolare senso. Ma se parliamo da un punto di vista professionale, e comunque l'X-T3 e l'X-T4, l'X-T3 sono delle fotocamere professionali, benché ai tempi venivano collocate in una fascia semiprofessionale. In realtà adesso si è capito che, insomma, sono delle fotocamere che tranquillamente possono stare in mano a chi lo fa per lavoro e quindi deve garantire anche un risultato. Chi fa matrimoni, piuttosto che eventi, chi ha bisogno di rilevare, di avere una reattività, per esempio sull'autofocus, una durata della batteria, e parliamo anche del video, un'affiliabilità comunque della fotocamera nella sua reattività, ecco che il passaggio da una X-T3 a X-T4 comincia ad avere un pochino più senso. Stiamo parlando comunque ovviamente al netto di eventuali recensioni ed eventuali prove che ancora ovviamente latitano soprattutto in Italia. Sì, e rispondendo anche a un amico che ha commentato il mio video precedente, sì, effettivamente l'Italia è un po' la pecora nera. Cosa significa? Che nel momento in cui, questo vale per Fujifilm, ma vale per qualunque altro brand, nel momento in cui esce una fotocamera nuova, all'annuncio ci sono già dei blogger, dei vlogger, degli youtuber, degli recensori che hanno in mano la fotocamera e se l'annuncio viene fatto alle 7 di sera, alle 7 di sera questi blogger, youtuber, eccetera, cliccano pubblica e pubblicano direttamente la recensione, la prova in contemporanea. Quindi c'è una valanga, un fiume, un'onda di recensioni e comunicati relativi appunto all'uscita di quella fotocamera. Per l'X-T4 è stato così, per l'X-100V è stato così, purtroppo la pecora nera rimane un pochino l'Italia, perché in Italia, a quanto pare, non ci sono evidentemente youtuber, recensori, vlogger di così particolare rilievo da fargli avere in mano la fotocamera in anteprima per poter pubblicare direttamente una recensione, appunto un'anteprima, una quick review. Correggetemi se sbaglio, perché effettivamente non ho trovato assolutamente nessuno che avesse in mano direttamente la fotocamera, il D-Day, il giorno zero. Ed è veramente un peccato, perché l'Italia credo che sia un mercato abbastanza importante, non probabilmente il più importante in assoluto, ma comunque un mercato che non va sottovalutato. Quindi nel momento in cui utilizziamo una fotocamera e la pretesa che abbiamo sia una reattività, un risultato non in termini qualitativi d'immagine, altrimenti a questo punto al posto di una serie XT uno acquisterebbe una GFX o acquisterebbe anche altre fotocamere molto più lente, ma qualitativamente come risultato d'immagine magari un gradino in più. No, in questi casi una Fujifilm XT4 ha delle grosse novità, ma che non sono relative alla qualità d'immagine, alla dinamica. E infatti, quello che comunque io ovviamente ho un attimino criticato e non ho particolarmente apprezzato, è il fatto che non c'è stato un cambio di sensore. Un cambio di sensore comunque è una di quelle caratteristiche che sono fondamentali nel momento in cui si introduce nel mercato o sul mercato una nuova fotocamera, però a fronte delle nuove caratteristiche che ci sono, probabilmente si giocano questa carta nel momento in cui uscirà probabilmente l'XT5 per esempio, con un sensore nuovo, magari da 32-34 megapixel, che avrà probabilmente i 6K, l'8K, quindi caratteristiche che è inutile buttare fuori sul mercato. Un po' anche perché probabilmente è necessario avere un sensore, un processore che gestisca un flusso dati del genere. L'upgrade a una Fujifilm X-T4 è sicuramente un passo abbastanza importante. Io mi prendo da esempio, io ho due Fujifilm X-T3 che dovrei vendere in questo momento, sono tenute ottimamente, no, non sto facendo un video annuncio, sono tenute ottimamente e vedendo un po' i prezzi di vendita si parla di 900-1000 euro. Bisognerà capire una volta che usate, che è uscita l'XT4 sul mercato, bisognerà vedere se effettivamente l'XT3 crollerà di prezzo anche sul nuovo. Bisogna capire un pochino di cose, acquistare per esempio un paio di X-T4 comunque è un impegno economico non indifferente, deve essere in qualche modo giustificato. Io le acquisterò? Non lo so ancora, sono sincero, mi piacerebbe prima provarle per capire effettivamente se, primo, c'è questo grande incremento di velocità nell'autofocus, secondo, anche il rilevamento del viso, non lo uso tantissimo il rilevamento del viso, però ogni tanto l'ho usato e devo dire che mi è stato veramente molto molto utile. Di meno ancora il rilevamento dell'occhio, anche perché non vado a stringere così tanto normalmente sulle persone. La stabilizzazione è altrettanto importante, perché comunque anche in fotografia ci fa compensare magari quella velocità di scatto un pochino troppo lenta, quel 3200-6400 ISO che normalmente vengono utilizzate. Io utilizzo massimo 6400 ISO sulla mia X-T3, con poi conseguente riduzione del rumore, però, sono onesto, potessi utilizzare qualcosina meno come sensibilità ISO, sarei molto contento. E questa stabilizzazione ci viene comunque d'aiuto, non è male comunque passare magari da un 6400 a un 4000 ISO, non sarebbe per niente male. Sono tutte valutazioni che vengono fatte alla luce del tipo di lavoro che viene fatto. Un foto amatore, non prendetela come una considerazione per sminuire il foto amatore, comunque deve avere lo stesso rispetto anche di un professionista, anzi come spesso dico, molti foto amatori qualitativamente riescono a produrre delle immagini molto più belle rispetto a un professionista, anzi spesso, perché comunque il professionista è legato anche al risultato e a dei compromessi che sono legati proprio al suo lavoro. Il foto amatore magari non ha la necessità di avere una reattività tale sull'autofocus, non ha la necessità di avere una batteria nuova che abbia una quantità di scatti disponibili così elevata, quindi si può permettere tranquillamente di togliere la batteria e metterne un'altra. Magari, io personalmente poi scatto in RAW, quindi a me onestamente dei filtri fotografici all'interno di Fujifilm non interessa poi più di tanto, benché comunque ovviamente produca, Fujifilm produca in via di massima su tutte le fotocamere, dei JPEG veramente tranquillamente utilizzabili e anche editabili e ovviamente di impatto visivo, utilizzando appunto questi filtri fotografici, molto 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 d'effetto. Il foto amatore non ha probabilmente questo tipo di esigenza, che sono delle esigenze tecniche, attenzione, non sono esigenze legate al risultato finale, a meno che il foto amatore non vada a fare foto per diletto a eventi, piuttosto che vado alla sagra di chissà dove e ho voglia un autofocus che sia più performante di quello della mia X-T3 e della mia X-H1. Per amore del cielo, non c'è assolutamente niente da abiettare in questo, anzi, se qualcuno, voglio dire, vuole passare dalla X-T3 alla X-T4 e la uso soltanto per fare le foto ai gatti in casa, onestamente, nessuno può dire niente riguardo. Sono delle considerazioni che mi veniva così spontaneo fare in seguito all'uscita di questa nuova fotocamera e in seguito anche a tutti i commenti che ho ricevuto. Quindi il passaggio da un X-T3 a un X-T4 va sicuramente valutato in funzione di quello che si vuole ottenere. Quindi non mi ripeto su quello che ho già detto. È una fotocamera sicuramente molto molto interessante, vorrò provarla decisamente, sperando che ci siano tipo degli open day, come fa spesso Fujifilm per provare le nuove fotocamere, magari delle giornate X-Fotography in cui si prova l'X100V insieme alla X-T4, magari insieme anche all'X-Pro3 che non ho avuto modo ancora di provare, per via anche poi dei display che non apprezzo particolarmente. Che dire, questo video era più una considerazione appunto a riguardo all'eventuale upgrade da X-T3, X-T2, X-H1 a X-T4. Bisogna comunque provarla sicuramente. All'inizio ricordo che due anni fa, quando c'è stata l'uscita, è stata presentata l'X-T3, le polemiche sono state bene o male le stesse, cioè ne vale la pena passare da un X-T2 a un X-T3. L'X-T2, io ribadisco sempre, è una fantastica fotocamera. E se la utilizzate per landscape, cityscape, o anche posato in studio, o still life, o comunque delle foto non particolarmente dinamiche, ancora l'X-T2 è una fotocamera stra-eccezionale. L'X-T3 ha portato delle notevoli migliorie, idem l'X-T4, ma è una cosa veramente di fino, che in qualche modo può essere giustificata nel momento in cui questa fotocamera ti aiuta a produrre. Mettiamola in questo senso. Staremo comunque a vedere appena uscirà. Con la questione del virus, è stata posticipata l'emissione sul mercato, doveva essere a breve, in realtà si parla di fine aprile, ma ovviamente non è assolutamente detto. Bisognerà vedere un po' come vanno avanti le cose. Lasciatemi come al solito un commento sotto, ditemi cosa ne pensate, se avete già in programma di fare l'acquisto. Tra l'altro gli amici di Fuji Rumors, ho visto che hanno già proceduto a prenotare una Fujifilm X-T4. Io non amo molto le prenotazioni, preferisco andare direttamente ad acquistare un'uscita, a meno che non ci siano situazioni di, come dire, tipo i treppiedi di Peak Design, dove lo potevi preordinare, ti arrivava entro certi periodi, io ce l'ho già da un po' di tempo, in realtà sul mercato non c'è ancora, quindi in questi casi posso valutare anche il preordine di una fotocamera che tutto sommato magari viene consegnata due o tre giorni dopo, o magari una settimana o due settimane dopo rispetto alle consegne dei preordini, tutto sommato non mi cambia molto. Quindi mi aspetto anche dagli amici di Fuji Rumors una recensione o qualcosa di approfondito appena ce l'avranno tra le mani. Ripeto ancora, lasciatemi un commento sotto, ditemi cosa ne pensate, questo è più un vlog che una reale discussione o recensione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Telegram di Offerte Fotografiche, che trovate sempre qua sotto. Date un'occhiata al mio canale Instagram, ci vediamo al prossimo video, ciao!